Alessandro Arighi di Etenea, vi troviamo qua al PFE Expo, ci racconti un po' la vostra storia con il mondo di professione e finanza dell'Expo e perché avete deciso di partecipare anche quest'anno. Sì, noi abbiamo questa collaborazione con professione e finanza per il mercato italiano perché abbiamo trovato attraverso la vostra struttura l'opportunità di avere un approccio molto più immediato col mondo dei promotori, poter divulgare quelle che sono le nostre metodologie, il brand e come ci proponiamo nella struttura di diversificazione e gestione patrimoniale del cliente. Quindi è un contatto immediato, molto vivo e soprattutto che ci permette di essere costantemente all'ascolto di quelle che sono le esigenze dei promotori. Grazie. Grazie.